per bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo su minecraft e come avete sentito c'è d'arche come perchè mi si fa sempre sentire non dici nulla no non dico nulla, bella raga vabbene oggi facciamo pigcraft o ti faccio vedere quell'altro cyber bello ma l'altro server bello non funge non c'è gioco a nessuno vabbè quando faremo la live sul tuo canale lo faremo su questo server e vediamo quanta gente viene domani domani che sarà il non mi viene il 5 gennaio sul mio canale esce un video di Clash Royale dovete andarlo a vedere tutti perchè insieme a The Master V dovete andarlo tutti a vedere in quel video dove li distruggo brutalmente ti ripropotenza la sua ultra mega combo guarda veramente è la mega combo ultra allaggante qualcosa del genere che ho inventato io vabbè oggi che si fa a martedì ci sei? effetti i sonori da povero ma bovigo dai ascolta manco tu c'hai soldi guarda ehmd4 md4 soe 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 sorella figa 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 dai catanetta figa che cazzo che cazzo di foccia ho fatto va bene comunque ve l'ho fatto già non negati qua il cose bug vabbè comunque io ho fatto già vedere nello scorso video che bug quello che sto facendo ora no no lo sono incanduto di solta l'ultima volta io non sono nullate come non è partita si che è partita pirlo lo b4 ti ho detto eh eh lo b4 come siamo in due no aspetta sbora un attimo io ho premuto su lo b4 dove cazzo mi ha fatto entrare no perchè ti giuro che ho premuto lo b4 eh no 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 non ti sto trollando lo sto dicendo sicuramente vabbè comunque io non sono nulla ne faccio live tanto se non ci sei no ma sono andato nella md6 tirletta vabbè md5 dai arrivo guarda voglio provare una cosa visto che ci siamo ma se io attivassi il pulsante cam do cazzo è io non sono niente tu qui c'è lo scherifo di nottingham vabbè basta hai l'arma eia dj chi sei ztadog ztadog tu sei il viola tu sei il rosso ztadog caro ma tu sei il viola cosa vuoi chiedere io sono bablenun 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 dit zon vai via dit che cazzo oh che cazzo succede non mi ha redirizzato la mappa what the fuck oh via da me via da me ma con le cù ti sparo eh ti sparo no è pacco lecco veramente minchia è pacco lecco venga a prendere l'arma dal tuo cadavere sì tanto non c'è danno da caduta minchia no non c'è non c'è tranquillo sta tranquillo pacco lecco il grigio pacco lecco guarda di solito di solito guarda di solito è il contrario che succede cioè io prendo la tua arma e lo uccido però vabbè non so se so se io dai dai dimmi il tuo rank allora dimmi il tuo rank solito è così era iron quanto dal gold quanto da gold lo b16 guarda io sono al 82% e io sono al lo b 86 lo b16 16 ok quanto ti manca dal coso dal gold allora io in percentuale sono in percentuale in punteggio quanto ti manca allora karma rimanente qualcosa aspetta fa ne non so però era qualcosa tipo 100 e qualcosa modman murder modman murder aspetta come rovinare la vita la gente altrui quello si vuole suicidare minimo dopo che l'ho detto guarda come lo spam seguimi qui per vero io sì no vabbè dite la leggenda che ho trovato prima su clash royale perché lo devo dire io dillo te no ragazzi vi farò un video ho trovato una leggendaria una leggendaria che neanche avevo nel baule corona così a cavolo neanche neanche dieci minuti fa ci farò un video appena posso sto registrando il 4 chissà e chissà quando c'è c'ho ancora 5 video da editare montare tutto quanto chissà quando riuscirò a mandarli online mai comunque avevi ragione a 10 perché sei una stanza fatiche ma rovinculo ascolta comunque avevi ragione guarda il fatto che da nulla arma avevi ragione dal fatto che ho passato a 10 iscritti a 15 sono andato a controllare ora poco fa cioè i video clash royale fanno 9 di più spoli pochissimo chi sei che così non ti uccido io sono cto7 cto7 minza quel nome mi è stato sempre sul cazzo sapete perché ragazzi perché danni marder danni marder perché la maggior parte delle volte cto7 è un innocente dove sei morto ah ok ora vado a prendere davi l'arma hai detto no ma è un innocente te l'hanno già in culata mi sa l'arma ma se sono ancora vivo è un innocente sono friup tu sei friup eia it's danni marder cavolo è x danni io l'ho ucciso l'ho ucciso it's danni ah non è marder guarda cosa ha scritto che ho ucciso un innocente e chi è il marder oh merda il marder allora è quello che scrive x danni marder sicuramente allora aspetta vediamo un po' io ho visto una strage di 4 cadaveri skylord jasper allora è al piano terra ah sei death pool perfetto vai è al piano terra dici allora non lo so chi può essere stai lontano da tutti io mi metto davanti così se devono killare killano prima me ok sto solar mi sospetta per un po' allora comunque ragazzi per il profilo instagram ne ha pagina facebook vabbè a parte quello dio 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 oh via via di duro via sono io ct7 dai sì sì lo so che sei tu ct7 comunque stavo dicendo per il profilo instagram e facebook creo un account secondario con sto scritto del master vuoi in modo tale che possiate capire chi cioè perché se vi do il mio dell'account originale killasto amsa killasto amsa no non è vero ma il murder il murder l'ho visto la spada no non lo fate in tempo a sparare madonna ti ho detto di killare amsa ma io l'ho l'ho killato si è spostato con l'arca all'ultimo secondo lo avete visto lo avete visto tutti ragazzi guardate cioè io non so se riuscirò a refreshare il video però l'avete visto tutti che si è spostato un pixel si è spostato è una gioia cadiamo guarda e questa sera come le altre serie tu sarai fisso il marte per sette volte di seguito e io invece asd ricordati di tagliare eh sì è ancora quello che mi ricordo boblenun occhio oh no stasso ma poi prima stesso nome ma da vader sarà anche il mio lo stesso nome tu hai qualcosa almeno ma a te non ti esce un cazzo stasera stasera no vabbè dai abbiamo fatto quattro partite mica tante appena mi escero una volta a marder poi guarda io voglio fare marder così non ricordo come non mi ricordo come cazzo si chiama quella musica se non l'avevi cercata prego a metterla in editing cerca su google musica che fa come prendere il culo come prendere per il culo alle persone vabbè lascia per che è rimasto vivo perché qualcuno è morto diciamo boblenun do cazzo sei do cazzo sei così io ti cerco e siamo vicini no c'è solo mmd vaffanculo a lui mi puoi dire dove cazzo sei tu please mi manca uno smerando Dove sei? Per favore Trovato Non voglio essere ucciso No, 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 no Vattene, blu Vattene, vattene, vattene 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 Perdi l'arma, zio Hai visto qualche morto? No, non ancora Il murder Non si sta facendo vivo Tutti che chiedono Che è rimasto vivo Ma non ne ha ucciso Manco uno, il murder Lo sai? Ok, ho visto uno morto Chi è? È il gold L'ha ucciso il blu Ok, il blu MMRD Stromix Occhio Chillato Ah, è chillato te Era Shaken Prima gli ho risparmiato la vita E ora l'ho chillato Shaken? Ma se la vicino a me è Shaken? Era comunque era Shaken No, di nuovo Ma è una gioia Io invece via 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 non la care via non la care il ciò che guarda che ho fatto via 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 non l'ho visto però l'ho sentito grazzo si sentiva e se così scrivo lo 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 o basta uccidete lo sopprimetelo preferisci qua dal gatto no 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 finiscila finiscila ora preferisci ok verrai soppreso fra 3,2,1 no 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 che cazzo fai sei impazzito no no sei impazzito volevo fare solo gli effetti speciali quelli belli ma tu stai male tu stai male tu stai male e tu sei un tostapane mi stanno fottendo tutti gli smeraldi sti stronzi non ho trovato la scala allora senti senti o la finisci di tua spontanea volontà o ti toglie il cazzone so l'orecchio c'è la tua skin bagatta che stavolta a Mertios vattene vattene ti killo ti killo eh ma cosa dai oh via so via non c'è bisogno ti ha killato anche il demon e poi abbiamo finito a te niente a te niente karma guarda io l'ho scritto in fascia coglione io voto prison no io non sto più votando ecco mai la gioia di nuovo sono cadute nuovoli ma io ho ormai solo la gioia e posso uscire da questo posto allora fa vedere dove cazzolassi da quella cascata in Mert no serio può uscire da lì ma sei serio doveva dove sono usciti minchia c'è il problema è che ci ho portato mille volte e mi si è baggato minchia c'ho vicinissimo chiunque è c'ho vicinissimo orca 2 chiunque sia chiunque sia o è skylord o il blu tu chi sei che non ti ammazzo Yvonne aspetta c'è il murder no sicuro con la cosa con la pistola allora occhio a skylord e occhio a quello con la maglietta blu che mi sta seguendo ben brooks ma vaffan ha detto che era il murder io l'ho killato vaffanculo chi ha scritto raga sono il murder io l'ho killato però ho perso solo 15 di karma i bevil murder l'hai visto? no c'è scritto in chat i bevil ma da ora spommo sono vicino al murder quando non è vero vero jasper tu chi cazzo sei? io sono mister chancy che ho prima ucciso un innocente tu chi sei? sei il re v mad? no sono questo e chi è questo? ah è Yvonne non è sto murder ma che cazzo fa con i murder scusa con i murder cosa fanno di bello aspettano che si uccidono fra lì che le persone si uccidono fra di loro e poi ne esce quando ne rimangono due persone è una tattica questa teoricamente vego skylord jasper ho capito che non sono skylord io no ma io ho capito che è skylord jasper tanto ok lo killo aspetta lo killo è questo qua skylord jasper secondo me l'ho mancato ah ma si mister chancy ok perfetto il minion skylord occhio che secondo me l'ho chilo l'ho chilo vado vado su skylord se perdo 15 di karma mi arrabbe oh grande no perché lui io prima ho sentito molto e dera sopra di me e dera più vicino a me quindi ho detto è skylord jasper per forza e che cazzo minchia ho comunque stato furbo non si è fatto vedere ma è una gioia guarda come cazzo si fa a uscire da qui non ne riuscirei a uscire come minimo guarda me ehmo guarda guardami no 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 basta 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 per te sembra per la struzzata madonna me ed è così che il mio caro pc mi dice che la memoria suddisco vicido e piena quindi od se automaticamente interrotta la registrazione Che bello Quindi vi lascio così Il resto della serata non era successo niente di che Mai una gioia che io sia il murder Spero che il video vi sia piaciuto Se così lasciate like So che vi rompo i coglioni Ma è il nuovo algoritmo di Youtube Commentate, condividete Se volete iscrivervi Iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video